A finalmente un volto l'investitore di Vincenzo Nasso, 63 anni, preside del liceo scientifico Guerrisi di Cittanova, morto sabato sera a Gioia Tauro, dopo essere stato investito. Si è infatti costituito alla polizia stradale di Palmi Giuseppe Guerrazzi, 18enne di Taurianova, conducente dell'auto pirata. Il giovane è stato denunciato con l'accusa di omicidio colposo e omissione di soccorso e non è stato arrestato a causa della trascorsa flagranza. I carabinieri della compagnia di Locri hanno sequestrato la ventunesima piantagione scoperta sul territorio nell'ambito di diversi controlli. Sono stati arrestati in flagranza di reato due coltivatori di marioana, Silvestro Polifroni, 56enne di Ciminà, e Sebastiano Pizzata, 36enne di San Luca, già noti agli inquirenti. La piantagione completa di sistema di irrigazione era composta da oltre 200 piante di cannabis indica, alte circa 2 metri. Un'iniziativa a sfondo benefico è stata promossa dallo staff tecnico e dai calciatori dell'FC Crotone. 30 bambini crotonesi che vivono situazioni di profondo disagio, residenti nel quartiere popolare Fondo Gesù, potranno assistere gratuitamente alle partite in casa della loro squadra del cuore. I ragazzi per i quali sono stati sottoscritti gli abbonamenti possono utilizzarli fin dalla prima giornata di campionato, in programma il 27 agosto. Il Sud del Mare, questo è il titolo della rassegna cinematografica promossa dall'amministrazione provinciale di Crotone e dall'area marina protetta di Caporizzuto. Si tratta di otto film che hanno come filo conduttore il Mediterraneo, che saranno proiettati nei giardini dell'Iceo Classico Pitagora, con ingresso libero da giovedì 25 agosto al primo di settembre.